Nell'ambito di un'articolata operazione di servizio che ha interessato l'imprenditoria cinese, all'alba del 22 marzo i finanzieri del comando provinciale di Rovigo hanno fatto scattare l'operazione denominata Ghost Cash, nel corso della quale è stata data esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare, personale nei confronti di un cittadino cinese e a diverse perquisizioni in provincia di Rovigo, Padova e Milano. Le indagini, spiega la nota stampa della finanza, che costituiscono l'epilogo di un'attività investigativa protrattasi per oltre un anno, sono state condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Rovigo e hanno consentito la ricostruzione dei movimenti di due società operanti nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento che avevano messo in piedi un conclamato sistema di frode ai danni dell'erario, consistente nella creazione di imprese di comodo gestite da imprenditori occulti che per i loro affari si avvalevano di terze persone titolari apparenti e che si interponeva nelle operazioni commerciali fra aziende italiane e cinesi. Queste ultime si sottraevano sistematicamente agli obblighi contabili, dichiarativi e diversamento delle imposte dovute, i cui illeciti ricavi, in parte utilizzati in Italia, venivano trasferiti all'estero. L'imprenditore cinese, arrestato, regista, occulto del meccanismo illecito, manovrava le aziende utilizzate nel sistema, costituite e cessate in rapida successione, secondo la collaudata tecnica denominata apri e chiudi. Tutte le aziende erano formalmente intestate a prestanome, anch'essi cinesi ed ex dipendenti dell'uomo, che così, senza apparire formalmente, poteva curare in prima persona tutti gli aspetti gestionali delle società, dall'apertura dei conti correnti e aziendali, ai rapporti con clienti, fornitori e personale dipendente. In definitiva, ogni azienda, dopo un breve ciclo di vita, cessava la propria attività, omettendo di versare le imposte dovute all'erario. In questo contesto risultano indagati quattro cittadini cinesi, ritenuti responsabili dei reati di cui agli articoli 5, 10, ter e 11 del Decreto legislativo 74-2000. Questo sistema di frode ha generato un debito nei confronti dello Stato di oltre 1,1 milioni di euro e allo stesso tempo un illecito incremento del patrimonio degli indagati che per tale ragione sono stati destinatari del provvedimento di sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza della somma evasa emesso dal GIP del Tribunale di Rovigo ed eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri del gruppo di Rovigo con l'obiettivo di giungere successivamente alla confisca definitiva. L'attività di servizio in rassegna si inserisce in tempi di pandemia nel quadro delle rinnovate linee strategiche dell'azione del corpo volte a rafforzare l'azione di contrasto ai contesti di illegalità economico-finanziaria connotati da maggiore gravità a tutela del sistema economico sano e degli imprenditori del settore onesti e rispettosi delle regole che vedono lesi da tali comportamenti fraudolenti le leggi di libera concorrenza e di mercato.